vabbè direi che siamo pronti dice che si arrapieranno i villici ma non so ma... cioè praticamente io l'ho fatto a casa di mia nonna ma... via 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 vediamo cosa succede e muoviti si muoviti ma... ha qualche lì un problema c'è la bambina scheda grafica non è la scheda grafica è la microprocessione sta volando tnt comunque ti avrete secondo me non ci sa tanto e rimane solo là dentro ma ci sono degli alberi sotto terra e non è ancora più lì no infatti manca ancora più pezzo qua in basso e resta io sto convinto che abbiamo ancora di salto ma... ma coltivo è che... è un altro culino non pretendere mica che la diamita esplora tutta contemporaneamente su Minet per te sarebbe... una legge della... sarebbe una l'unica legge della fisica rispettata Chissà quanti punti di esperienza ci sono poi Li raccogliamo tutti Se vediamo passiamo su ogni cubetto a prendere Secondo te non finisce più perché Non si ricorda più cos'è che deve ancora fare esplodere Ho finito Si lascia un attimo ricaricare la grafica Che la deve ricostruire tutta Raccogli tutti i cubetti Vediamo quanti sono Ascoltiamo una cosa F3 Eh se lo facevi prima e vedevamo quanta memoria Cazzo 95% Vabbè Guarda che poi potevamo Ah ecco Minecraft non usa tutta la RAM Usa soltanto un quantitativo determinato Quindi potevamo regolarla di più E ne usava di più e c'era una grafica migliore Eh vabbè Almeno un'esclusione è andata bene No si è soltanto abbassato Fai ESC Scendi Cioè fai scendere la finestra Qua No si è chiuso A tutti ragazzi qui Wolf E Jacopo E Jacopo Mì Siamo arrivati qua finalmente anche su Minecraft Vabbè lasciate stare la stretta senza senso Comunque crea un nuovo mondo naturalmente Avete già capito che giocheremo in modalità estrema Eh dopo dieci volte che abbiamo fatto sto video Si perché diciamo che abbiamo avuto qualche piccolo problema del tipo che lancava Mi ha messo la modalità estrema no? Si Comunque questa nuova serie adesso sto giocando io Poi toccherai a Jacopo Mì Poi ancora io si qua non finiremo Che succederà molto presto Sì praticamente fra tre giorni saremo Cioè tre giorni di Minecraft Quindi circa dieci minuti avremo già finito Uh Apriamo con Soja che ci siamo Vediamo Ricordiamo sempre F3 che è il tasto 160 160 160 6 Naturalmente laggerà come una bestia No Beh dai insomma E' un miglioramento devo dire Rispetto a prima Oh e sta pure usando meno memoria Siamo dentro l'albero? Ha deciso Perché intanto non si sa perché è il mio Il Bunch Si ma ha un favore che vuole lui Eh capita Sembra il controllo della Playstation 3 Qui a casa di Wolf non va tutto Neanche la Rai No e poi comunque E sulla Rai c'è una domanda che mi sono sempre fatto Perché sono ancora direttore di Rai 2? No quello lì Non era questo No E c'è Sapete che adesso c'è la nuova pubblicità No rompi qua rompi là Che la Rai è la più grande Più grande No La più grande era i te O gratis Ma se noi paghiamo il canone Rai Che viene dato alla Rai Non è più gratis No no non viene dato alla Rai È del governo Cioè Scegli tranquillo No è che c'era il Il cubetto spastico lo so Ma per te è tutto spastico? Allora No 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 Che culo del cazzo Io se ne ero ancora di questa Mi stavo già cagando addosso Ragazzi come Ben saprete noi stiamo cercando di mettere le mod Su Minecraft Ma dato che abbiamo la versione craccata E che siamo deficienti Non riusciamo a metterla No in realtà non abbiamo la versione craccata Cammina su DA questa No non abbiamo la versione craccata Lo devo dire Abbiamo il launcher Che abbiamo trovato Su internet Sul sito di Minecraft Ammesso che esiste un launcher sul sito di Minecraft Dobbiamo informarci Eh vabbè insomma Sappiate comunque che È una cosa lecita Cioè nel senso che lo fanno Ce l'hanno tutti Ecco Ma che E per questo motivo siamo ridotti così E guarda E' raccato E' raccato E' raccato Comunque finalmente ragazzi possiamo anche costruire Siamo nella savanna? No Savanna Sta scritto nella console Si ma un po' Non è scritto da tutto bene Eh vabbè Che Cosa pretendi da noci Poveraccio Lui lo scrive come può Poi lui c'ha anche si Un dito in meno E perché l'ha perduto Giocando a Minecraft E i creeper E praticamente L'ha scritto e più sbaglio ci ha messo un paio di n in più Salutiamo tutti i creeper che ci stanno guardando E ce ne saranno veramente molti lo garantiamo No Eh ma cazzo Tu sei l'unico però Ma che poi ti viene più fame Io direi di andare a combattere contro un creeper con questa vita qua Propongo di mangiare per avere più vita E adesso ora farmi uccidere qualche vita Ti consiglio anche spicciarci perché c'è qualcuno che cammina Eh vabbè Eh vabbè no non un solito scheletro Eh Non si sa mai Oh ma ci mettono veramente 40 anni Siamo in modalità estrema Le mucche sono estreme Mangia che hai fame E che poi devi recuperare la vita Non vedi che hai tre cubetti Se cadi da un'altra volta come tu al solito Ma basta raccogliere erba che non ci serve Mangia Stavo pensando che non ho attivato il timer Pazienza tanto c'è No Eh Ma calma Ma caso Ha sfornato il cubetto No ha sfornato una mucca chissà Prega ho visto una mucca che mi si Si appaggia Si va più un pre E la mia impressione è il sistema di spawn di questo gioco qua L'ha fatto gli stessi che ha fatto il sistema di spawn di Call of Duty Occhio secondo me un creeper c'entra davanti Sì dai maiali Un creeper maiale certo Porco cane Guarda E' che maiali qua volano E non muore mai soprattutto Preferivo pollo crudo Comunque va bene Cosa vuoi vuoi andare al ristorante Si Esiste il ristorante in Minecraft Mi serve il ristorante Oh ma vuoi schiattare Cosa pretendi scusa Stai colpendo con un cubetto di legno Anzi ecco vai a rompere un cubetto di pietra con legno No No con legno puoi No non mette Sta iniziando a laggare di nuovo No io consiglio di piazzare del TNT Fa saltare in aria Minecraft Guarda Eh vabbè non vuoi rompere quel cubetto Paziente No ma io conosco Minecraft Se fa così Non ti Niente Quanto è storia Perché un po' se li cado Troppo veloce E' più veloce lui a rompersi Che tu a cadere No a costruirsi Vai a romper della pietra Che rompi più velocemente Tanto puoi romperla con un cubetto di pietra Allora Ma cosa è sparito? Si sposta nei cubetti Non so Basta vai a romper della pietra Che fai più veloce Che fa un po' che ne notti Eh scaviamoci la nostra tana Eh vabbè Un po' Mi sa che è perché abbiamo aperto un contagio a più laggia Ecco bravo Close Lo vediamo Adesso non lagga più Vedi non lagga più Ma cosa? Eh sei caduto No ha laggato Perché Vabbè Magari c'era un creeper invisibile che è esploso No allora Direi di farlo qua E prendere la pietra La pietra La pietra Scusa adesso Quando mi hai trovato La pietra Quando mi hai trovato un bel posto Mi faccio gli strumenti Ma guarda che tanto Puoi già rompere Bravo rompi la pietra Che così prendi la pietra E rompi più velocemente Rompi un cubetto di pietra Ma guarda quanto è raggato Oh ci metti un secolo Ma poi con il cubetto di pietra Allora no facciamo una cosa No Fredati di me Allora ma qua Hai vinto un obiettivo Fare l'inventario È impossibile Sto obiettivo È normale in Minecraft No Piazzi lì così Poi non puoi più rompere la pietra No poi lo rompi Tu cosa capisci Ma lo devi rompere Poi si danneggia No Ma è normale Sai quante volte ho rotto le cose E sono ritornate normali E sono ritornate normali E vabbè Giusto un po' lancato Io a questo punto Proporrei di farci Un piccone di pietra Cata Cos'è sto coso qua che sale Hai visto anche tu un coso che si arriva Ma secondo me è stato anche di qualche bug Ah no È vero Sì 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 Allora È una mucca Una mucca fa un mucca No fa Adesso vediamo anche i denunciati Dalle mucche Eh vabbè Io denuncerei quelli di Minecraft Speravo si può fare un gioco così Strano perché laga Ma sono con la 1.7.4 nuova Ecco perché laga Perché è vero La 1.7 Praticamente C'ha dei problemi della madonna Adesso lo scrivo una mail a noccio A nocciolo E Gli dico che sta laggando mai Che sta laggando mai Perché E lui mi dice Sì è tutto normale Quando mai non è normale Che bello Adesso direi di Allora Di trovare il carbone Carbone dove sei Quando ti metto la minimappa Sarà tutto più facile Se mai riusciremo a metterla No mai È il nostro destino Come è il destino Di minecraft laggale Mi sa che siamo gli unici Che non riescono a metterla A x-ray No va bene Ma cosa Adesso so già Quali saranno I commenti Avete un pc del cazzo O è comunista E dire che è strano Perché non sta neanche usando Tutta la memoria Anche se abbiamo Quello cantazio Quindi ci scusiamo Quei produttori di cantazio Non è lui che fa laggare il computer Eh Chi lo lì Infatti non è vero Ma Faggita Comuniciamo Adesso facciamoci Un bellettino No Giusto Retto Poi cos'è che dobbiamo farci Do già Cassa Tascia Tu stasi E cazzo Cioè fornace Se troviamo anche il carbone Va meglio Ah beh puoi produrlo il carbone Come Metti il legno nella fornace Un po' di legno nella fornace C'è bucio Bruci il legno Si aspetta Quindi mettiamo legno qua E legno sotto No non era così Aspetta Com'è che era No No dovevi mettere Eh non mi ricordo più Ma cos'è che sono Ah si Ah ecco perché Eh Eh Ci puoi mettere Soltanto il legno Ah beh adesso poi Ok E se non sbaglio Poi andava soltanto sotto Comunque vabbè No Ora La cosa bella È che io non riesco mai A posizionare il letto Si Stiamo scavandoci un buco Cerchiamo ancora il carbone Non facevi prima di andare a prendere del legno e bruciarlo No perché Cioè adesso qua mi sto costruendo la mia casetta Tu cosa ne capisci di minecraft Poi sei troppo io Poi sono io che ho fatto minecraft Poi sta Stiamo troppo alti per il carbone 63 Il carbone si trova circa No li ho trovati anche qua 62 Quindi siamo troppo alti Di uno Si la finestra Facciamo la finestra e avviamo La casa ai minecraft Così se Puoi vedere se arrivano i zombie No li senti i zombie Puoi vedere se arrivano se fai buco nel muro Oh guarda Guarda che bellettino Ora Consiglierei ti facci anche Una volta Cazzo Le spiegherei perché tu metti sempre le parti all'interno Che visti da fuori fanno schifo Scusa C'è anche una questione di estetica Una questione di etetica Scusa Oh ci sono le mucche Vai prendere un po' di legna che facciamo il carbone Adesso vale Prima cosa uccidiamo le mucche Mi da fastidio Con la spada fai più danno Ah beh Però ce l'hai solo Ce l'hai una spada Non di Ce l'hai solo di legno No allora fai più danno così La mucca che vola poi Almeno muoiono adesso E ha smesso di laggare perché siamo fichi No perché sei stufato Uffa lag che palle Sono stufo Ma No lagga Lagga ancora E comunque ricordi che la prima legge di manca Dice che non puoi nominare il nome di nocci in vano Io sapevo di Aerobrine Attaccati a sto cazzo Cioè certo Scusate per Se non siamo così euforici come al solito Però purtroppo Abbiamo già fatto questo video dieci volte E ci siamo rotti il cazzo E Quindi faremo la seconda puntata forse Allora Sì così devo fare la miniera così Allora E moriremo tutti Ve lo spiego Noi praticamente C'era la nostra prof Che ha detto Jacopo preferisci che ti scriva sul diario Che ci esprimi in modo Turpiloquio Oppure in modo modesto È turpiloquio prof Così i miei genitori non capiscono cosa c'è scritto Perché l'ha rubato il nostro escompagno E poi lo vede e ci scassa a tutti C'è il nostro amico Che è a scuola con noi a LITIS Che si chiama Ma tu vai a LITIS Io da diciamo Vabbè è sempre a LITIS Che si chiama Si fa chiamare Soldato solitario 99 Che ha mandato a fanculo Chiamandolo per nome Il nostro compagno di classe E in un video su YouTube Allora così Vediamo se va Visto L'avevo detto io Chissà perché non puoi bruciare le assi Quanto è che vedete ci potremmo anche fare una bella cultura Giusto per portare l'acqua in casa è più facile così Per far l'acqua infinita Guarda 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 Che l'acqua che ha fatto Facciamo una casa sott'acqua? No Non fa bene a casa Carbonella Che è la stessa cosa Che è la stessa cosa però con un nome diverso Vediamo Certo Certo Dubiti di me Guarda che io l'ho usata Centinaia di volte Sui server online Con tutte le mod Adesso costruiamo A costruirci la nostra bella casetta Premier? No no Non scusa Q No 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 Come cavolo è che era? Cosa? Non mi ricordo più il comando C'era un qualcosa che non c'è niente C'era un qualcosa Ma non mi ricordo più Forse era Sta passando il nostro primo giorno su Forse era B o G Uh Comunque la cosa migliore Sai che se dormi a carbonella si sviluppa più velocemente? Che? Eh perché è passato un giorno Ti immagino avere come vicini villici Io ci convivevo con i villici Ci scambiavamo le cose Poi avevo installato la moda del sesso E praticamente facevo il figlio villico con la villica Qualcosa di simile Togli la linea No mettiamola Le mettiamo Ma puoi mettere la pelle sopra? Adesso lo vedremo il prossimo giorno Ti suggerisco di rientrare e dormire perché se no ti attirizzo Quindi ragazzi a resto quello qua ci metterà 40 anni Ah no Ecco è vero Costruiamoci La pelle Comunque ragazzi a questo punto direi che ci costruiamo un'altra cassa Poi dormiamo Quindi chiudiamo qua e ci vediamo la prossima puntata Dove Jacopo Mici farà vedere come scavare una miniera Sperando Sperando che Indio Quindi Bella a tutti da Wolf E basta Allora aspettate ci vuole Vabbè ci vediamo alla prossima puntata Allora aspettate ci vediamo alla prossima puntata Sperando che